È più che mai necessario mantenere salda la tutela dei lavoratori, ovunque essi si trovino, quale che sia la loro nazionalità. Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia in ricordo delle vittime di Marcinelle. Era l'8 agosto 1956 quando nel crollo della miniera belga morirono 262 minatori, 136 furono gli italiani. Una tragedia alla quale è sopravvissuto Antonio Racaniello di Castelgrande che in quella miniera lavorava e che subito si unì alla squadra dei soccorsi. Racaniello è venuto a mancare nel 2016, testimone di una vicenda che ha segnato la storia dell'intera Europa. L'occasione per non abbassare la guardia sull'emergenza delle morti bianche arriva nella giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Un sacrificio, quello lucano, che da inizio 2023 ha fatto contare quattro decessi, esclusi quelli avvenuti fuori regione. L'ultimo incidente a bussetto nella bassa parmense è costato la vita all'operaio Maurizio Giordano, originario di Baragiano. E oggi le parti sociali chiedono più tutele a partire dalla prevenzione sui luoghi di lavoro, in tutti i settori, compreso quello agricolo, soprattutto in una regione come la Basilicata, dove il settore primario rappresenta una componente fondamentale dell'economia lucana.